Presidente Marsiglio, l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 di FIRA è l'occasione anche per fare un po' il punto sulle attività della finanziaria regionale? Intanto un'ottima notizia, il bilancio si chiude in attivo, non succedeva in passato, sono 52 mila euro di attivo. Lo scorso anno il combinato disposto di FIRA e di Abruzzo Sviluppo, che abbiamo in quell'anno fuso, faceva oltre mezzo milione di perdite. Questo significa che la nostra finanziaria, grazie anche al processo di fusione che abbiamo portato avanti, oggi funziona, riceve commesse, produce attività e produce quindi anche delle entrate che consentono a questa azienda di andare avanti. Il prossimo passo è completare il percorso dopo la fusione per divenire organismo intermedio, secondo la normativa europea, per gestire pienamente la rendicontazione, la distribuzione e l'erogazione dei fondi europei, è un'attività che già parzialmente svolge FIRA. Comunque la buona salute è certificata anche dalle relazioni del collegio sindacale e dei revisori legali, testimonianza di una buona salute, di un buon lavoro svolto. Abbiamo trovato anni fa due aziende finanziarie che rischiavano il collasso e che avevano anche una crisi di identità con a volte sovrapposizione di funzioni o una totale incapacità di svolgerne alcuna. La fusione ha prodotto come risultato positivo un'azienda più forte, un'azienda più sana, un'azienda che produce utili, un'azienda che svolge la sua funzione al servizio delle imprese e dell'economia abruzzese. Presidente, da pochi mesi FIRA gestisce anche le piscine Elenaia di Di Pescara, tutto questo in previsione e in proiezione futura cosa potrà significare? FIRA l'ho ringraziata per essersi anche assunta al compito in assenza di altre aziende in house che avessero un oggetto sociale specifico, di aver fatto anche delle cose come la gestione dei grandi eventi sportivi e culturali, la grande partenza del Giro d'Italia, quindi di promozione territoriale, compresa quella della riapertura delle piscine Elenaia, che è borderline rispetto alla sua missione sociale. Ma noi non potevamo lasciare quegli impianti fermi in deperimento, né sprecare le grandi occasioni avute con i grandi eventi sportivi e culturali di promozione del territorio, perché? Perché in passato sono state sciolte o andarono fallite aziende di promozione turistica o altre aziende analoghe. Ora, dopo aver fatto ripartire le nagliadi, stiamo lavorando, era già previsto all'inizio di questo percorso, alla realizzazione, alla costruzione, stiamo studiando lo statuto di un'azienda che possa avere invece proprio questo oggetto sociale specifico, anche in linea con un indirizzo che il Consiglio regionale ci diede, quando abbiamo approvato la legge di riforma del turismo e della cultura, le due leggi di riforma in cui la mancanza appunto di uno strumento di questo tipo era stata stigmatizzata dal Consiglio e ci era stato dato all'Aggiunta regionale anche l'indirizzo di elaborare una risposta a questo problema che stiamo appunto portando a definizione e spero da qui a poche settimane, ma qualche mese, alcuni mesi al massimo, di poter portare in Consiglio regionale anche una proposta in questo senso. Grazie. Grazie.